La mia unica amica. Ma tu bevi un liveto anche in aereo? Da per tutto. Metti su, per i 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 su. Gli scherzi più temuti dai viti. Ehi, lo scherzo a parte! Mi sarà pericoloso. Prenino, prendino! Non sapevo che c'era qualcosa di strano. Perché ti do tanto, ti bevamo, che bevamo. Teo Teocoli, con la partecipazione straordinaria di Massimo Boldi. E con Michelle Unziker, presenta Scherzi a parte Cult. Domani alle 21 su Canale 5. Vuoi un passaggio? Neanche se me lo chiede Naomi Campbell. Dai, Vittorio, vieni con noi. Permesso. E questa sarà un'estate affollata con Tim. Affollatissima! Prova il gusto di Elisir Pompelmo Rosa e Fragole. Elisir di Rocchetta. La natura che disseta. Guarda! Ah, hai rifatto il colore! No, è il colore di quattro settimane fa. Dall'esperienza Nivea nella cura della pelle. Nuovo shampoo luce e colore con filtro UV. Protegge e ravviva il colore dei tuoi capelli per quattro settimane. Il vestito è nuovo! Nivea Air Care, luce e colore. Il piacere di prendersi cura dei capelli. Togo gelato. Il piacere senza il peccato. Bagno crema licea persona. Con nettare puro di latte. Ti purifica e ti rigenera. Così efficace che il mondo ti sorride. Sicura. E' licea. Complimenti, proprio un bel matrimonio. Mancava solo un buon caffè. Il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere. Non so avere un bacio dallo sposo? Ma certo, ma come dirti di no. Vero cara, ma... Ma... In paradiso lo sposo deve baciare solo la sposa. Giusto. Già partiamo per un caffè. Dei manco il caffè adesso. Non è per il caffè, è per il pensiero ardito. Ardito? Il nemico mi fa male il dito. Ho preso il premio Nobel! Famiglia Cristiana vi offre Thomas Mann, La Montagna Incantata, volume primo. Il primo dei Nobel della letteratura. Solo con Famiglia Cristiana. Solo questa settimana. Solo un euro in più. Con Super Summer Car puoi parlare gratis con tutti per due mesi. È l'estate Vodafone ed è tutta intorno a te. Un amore, mon amore, mon amore. Io conto i giorni, io conto i giorni, io conto i giorni. Io vorrei te dessinare... Non toccarti il mio braio. ...sant'essere. Toro seduto? Aquila nera? No, e Luca in spiaggia. Super protetto con il nuovo Nivea Sun Spray extra resistente all'acqua. Dove azzurro non diventerà rosso. Nuovo Nivea Sun per bambini, protezione 40. Mari aperti e incontaminati. È in queste acque profonde che Rio Mare trova i tonni della qualità pinno gialla. E di questi tonni sceglie solo le parti pregiate, quelle più tenere e gustose. Ecco perché tonno Rio Mare è così tenero che si taglia con un grissino. Per la tua tavola scegli il meglio, scegli il gusto unico di tonno Rio Mare. È nato Vanish Oxy Action Gel. Guardate la sua straordinaria azione sulle macchie più difficili. E ora olio di motore. Rossetto. Grasso di hamburger. Basta pretrattare con il tappo dosatore e aggiungere ad ogni lavaggio un misurino di Vanish Gel al detersivo abituale. È sicuro su colorati e delicati. Ed ecco il risultato. Visto? Fantastico! Le macchie sono sparite e i colori perfetti. E sulle macchie grasse è meglio della candeggina tradizionale. Vanish e la macchia svanisce. Non pensavo tu fossi così. Davvero al telefono ti immaginavo diverso. Io? Sei deluso? Come mi trovi? Sei bellissima. Nasce il videotelefono di casa di Telecom Italia. Basta la normale linea del telefono. Perché sentirsi è bello, ma vedersi è meglio. Oggi c'è un rosso nuovo. Naturale. Terrosso alla pesca e lisir di rocchetta. Disse tante benessere dagli altipiani del Sudafrica. La tua assicurazione auto ti strapazza? Scegli Genialoid. Clicca su genialoid.it Oppure chiama l'800 999 999. Costa molto meno e ti dà molto di più. Provaci anche tu. Fai un preventivo e confrontalo. Cambia in meglio. Scegli Genialoid. È una società rasse. Davvero paparino, non vorrei essere nei tuoi palmi. Ma come papà? Ma come paparino? E quindi è proprio la nostra storia? Ma non fare tutta la svenevole. Fai buono. Non è? Ti ho detto che è una cosa di pomeriggio, sì. Ho visto delle sue cose e la trovo anche una bellissima ballerina. Ma cosa hai detto? Sandra e Raimondo Super Show. Ogni domenica alle 18 su Canale 5. Mamma diceva sempre che i miracoli succedono.